Non siamo fatti, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale puro, ognuno vale puro, ognuno vale puro, vale, vale puro. Sì, grazie Presidentessa. Io intervengo per una questione di carattere generale, non è un vero e proprio atto. Volevo condividere con il Consiglio Comunale un nostro comunicato che riguarda il tema dei rifiuti però allargato, al tema provinciale. In quanto martedì scorso si è tenuta un'assemblea dei sindaci in provincia proprio su questo tema e parallelamente noi come Movimento 5 Stelle e Brianzolo ci siamo incontrati e abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Quindi vorrei leggere questo comunicato che è stato diffuso, diramato tramite il nostro consigliere regionale Gianmarco Corbetta. Non trovo parole migliori di quelle dalle utilizzate e da noi condivise per condividere alcune riflessioni su questo aspetto. E dunque il tema è quello appunto della costituzione di un ato provinciale dei rifiuti. Una proposta che è stata avanzata appunto martedì scorso durante l'assemblea dei sindaci e che dal nostro punto di vista rappresenta una manovra miope e corporativa che ancora una volta ha come motivazione reale e non dichiarata quella di salvare il forno inceneritore di Desio. Si tratta della riproposizione della fusione BEA-CEM allargata in questa volta anche a Gelsi Ambiente. Oggi Gelsi Ambiente con la sua politica di tarifazione puntuale e in prospettiva di avvicinamento all'obiettivo di rifiuti zero rappresenta una variabile indipendente e troppo esuberante per gli amministratori provinciali e anche per quelli di molti comuni evidentemente. Gelsi Ambiente va normalizzata e resa ancora innocua all'interno di questo ato dei rifiuti dove tutto ruoterebbe intorno alla necessità di mantenere in vita il forno di Desio. Si continua a coltivare il proprio orticello provinciale senza considerare minimamente invece il contesto regionale. Se la regione non ha mai istituito gli ato provinciali per i rifiuti, come candidamente ammettono anche gli amministratori a livello di provincia, un motivo ci sarà pure. Oggi in regione l'ambito ottimale per quanto riguarda l'impiantistica di smaltimento è proprio il territorio regionale stesso. E questo è dovuto al fatto che siamo in una situazione di sovraccapacità impiantistica e non ha alcun senso che ciascuna delle dodici province lombarde si faccia il suo ambito ottimale con la relativa autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non sono infatti sufficienti per alimentare tutti gli impianti esistenti. Da qui il piano di progressiva dismissione degli impianti di incenerimento proposto dal Movimento 5 Stelle in regione Lombardia è votato all'unanimità in Consiglio e oggi parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti. Gli ato provinciali sono l'antitesi del piano di dismissione degli inceneritori. Proprio nel momento in cui nel Varesotto amministratori di ben altro spessore rispetto ai nostri decidono di chiudere l'inceneritore di Buster Sizio e di costruire una fabbrica dei materiali, i nostri sindaci e l'illuminato presidente della provincia con il pretesto di tenere in mano pubblica l'intera gestione dei rifiuti mettono insieme aziende che per loro natura fanno un'attività contrapposta e creano un carrozzone politico, o almeno questa è l'intenzione, di dimensioni provinciali che impedirebbe qualsiasi evoluzione virtuosa del sistema di gestione dei rifiuti. Anche facendo finta che non esista un insanabile conflitto di interessi tra la funzione di raccolta e la funzione di smaltimento, occorre considerare che storicamente le innovazioni nei sistemi di gestione dei rifiuti sono sempre arrivate da libere aggregazioni di piccole dimensioni di comune in cui è stato il singolo sindaco che ha avuto la libertà di sperimentare qualcosa di nuovo, la tariffa puntuale, le ecosagre, le casette dell'acqua, eccetera, 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 oggi si parla addirittura di sacco rosso, cioè di introdurre una raccolta specifica per i pannolini e i pannoloni che sono, ricordiamolo, quello che riempie la gran parte delle nostre discariche che finisce poi negli inceneritori, forse il 25% addirittura è costituito da questa tipologia di rifiuti. E poi tutti gli altri sindaci lo hanno seguito per emulazione, con una politica virtuosa. Un ato provinciale sarebbe un contenitore troppo grande e farraginoso in cui il singolo sindaco non conterebbe nulla e non avrebbe la possibilità di fare sperimentazioni virtuose. Insomma, si finirebbe per ingessare il sistema, mentre proprio dalla continua riprogettazione dello stesso che si permetterebbe di andare verso una riduzione effettiva dei rifiuti, se proprio non vogliamo chiamarla strategia rifiuti zero. Proprio per evitare tutti questi problemi va assolutamente accantonata questa intenzione di creare un ato provinciale. Concludo, Presidente, dicendo che andrebbero creati invece degli ambiti subprovinciali che vengono chiamati ARO, quindi ambiti di raccolta ottimali, semmai, e per quanto riguarda lo smaltimento il forno di inceneritore di desio dovrebbe essere chiuso nel più breve tempo possibile e riconvertito invece a fabbrica dei materiali. Proprio come sta avvenendo a Bustarsizio e come stanno chiedendo molti cittadini che firmano la nostra petizione presso i nostri banchetti. Il rifiuto da smaltire, una volta imboccata la strada dei rifiuti zero, avendo a disposizione la fabbrica dei materiali, diventerà invece una marginalità del sistema, la cui gestione sarà più semplice, poco onerosa e soprattutto meno inquinante. Grazie. Grazie, Presidentessa. Dunque, io faccio un intervento molto sintetico perché devo dire che la proposta va in una direzione, secondo noi, positiva, in quanto mira a razionalizzare la situazione della società. Quindi, in sostanza, coerentemente con quanto abbiamo votato in precedenza, per esempio sulla questione di scena aperta, per esempio sulla questione di Brianza Fiere, per esempio sulla questione di Monza Crea Valore, fin tanto che se ne proponeva la chiusura, per quanto riguarda il consorzio di smaltimento dei rifiuti CBM in cui ci trovavamo. Sono tutte proposte che, in generale, vanno nel segno della spending review, della razionalizzazione delle spese, di un maggiore efficientamento e quindi, come filosofia, come indirizzo, ci trovano assolutamente favorevoli. Detto questo, però, direi che è anche il momento di fare alcune riflessioni, perché, senza timore di dare un giudizio trancian, ma, al contrario, per essere sempre molto chiari, crediamo che TPM fosse un vero, come dire, scandalo, forse è una parola troppo grossa, però sicuramente avesse bisogno di questo intervento e che questo intervento, forse, ecco, se dobbiamo trovare una critica, arriva tardivamente. Ci sono alcuni aspetti della gestione passata che sicuramente, come dire, non fanno onore all'amministrazione monzese, non erano in linea, quantomeno, con gli standard dell'amministrazione monzese. Alcuni esempi, beh, sui risultati di esercizio, quindi sulla parte economica, nel momento in cui decidiamo che vogliamo gestire la sosta, in un momento in cui la tecnologia ci viene incontro, avere una società che ha un consiglio d'amministrazione, fatto da diverse persone, erano tre, se non sbaglio, più il collegio sindacale, un direttore generale che aveva assolutamente un emolumento fuori da qualsiasi logica, 150 mila euro più IVA, quindi di gran lunga superiore al dirigente apicale della nostra organizzazione, direi che questa era una cosa inaccettabile e quindi siamo assolutamente d'accordo che questa situazione vada a terminare con la fine del mese. Lo dico perché guardando proprio i risultati economici, dei risultati degli esercizi 2011, 2012, 2013, che sono quelli disponibili, ci rendiamo anche conto che un emolumento del genere abbia inciso pesantemente sul bilancio della società. Ricordiamo che la società ha avuto un utile di 221 mila euro nel 2011, di 187 mila nel 2012, una perdita di poco più di 100 mila euro nel 2013 e dalle relazioni dei documenti che ci sono trasmessi, invece dovrebbe avere almeno a chiusura del bilancio 2014 un utile positivo. Quindi in un momento in cui le soluzioni tecnologiche vengono incontro per poter razionalizzare i costi e massimizzare gli utili da poter reinvestire, fa rabbia pensare che noi dobbiamo fare dei tagli su alcuni aspetti, su servizi sociali piuttosto che su approvvigionamenti di beni materiali e poi continuino a sussistere delle questioni come quell'emolumento totalmente fuori scala. Non abbiamo nessun problema a dirlo proprio in quest'Aula come rappresentanti dei cittadini. Così come anche nove dipendenti e insomma tutta una situazione che dal punto di vista societario rappresenta sicuramente la necessità, rappresenta per noi la necessità di svoltare e cambiare decisamente rotta. L'altro tema è per esempio che mi ha colpito, è la questione che riguardava l'incarico del RUP per il parcheggio del nuovo ospedale. E qui apro una parentesi, di recente sono proprio stato a San Gerardo e ho visto che in tutti i reparti, in tutti i piani di tutte le stanze continua a campeggiare dei manifesti che riguardano questo intervento del parcheggio. Quindi non ho capito bene a che cosa si riferiscano, lo segnalo perché essendo all'ordine del giorno questa questione ho visto che presso tutti i reparti e le sale del San Gerardo invece continuano a figurare questi manifesti con il progetto del parcheggio interrato eccetera eccetera, ma è solo una parentesi. Invece il tema addirittura dell'emolumento eccetera e il fatto che questo intervento quantomeno dal punto di vista temporale non fosse stato concordato con il Comune di Monza, con l'amministrazione, cioè col socio, fa capire che l'intervento di razionalizzazione ma anche da un punto di vista del flusso logico, cioè se noi siamo il socio unico è giusto che la società abbia come indirizzo quello che viene dato dall'amministrazione e che poi invece il Consiglio d'amministrazione si limiti all'efficientamento delle decisioni, a fare in modo che le gare d'appalto si svolgano nella maniera più efficiente possibile, più efficace possibile e che portino quindi ad una gestione oculata della società, cosa che in passato invece evidentemente non è accaduto. L'altro tema che andando a rivedere un poco i trascorsi di questa società ci ha colpito è un po' la mancanza di trasparenza a livello macroscopico, per esempio andando sul sito web della società se uno provasse a consultare la sezione amministrazione trasparente, nelle varie voci troverebbe ancora in allestimento alcune sezioni credo previste dal decreto legislativo 133 2014, ancora oggi quindi a distanza di due anni, anzi la maggior parte di quelle sezioni del sito istituzionale della società risultano in allestimento, in aggiornamento ma prive di dati e quindi denotando una scarsa trasparenza. Tutti questi elementi quindi ci portano a pensare che questo intervento sia corretto, necessario, opportuno e anzi ovviamente come è nella nostra funzione in quest'aula lo rilanciamo dicendo che la raccomandazione che noi facciamo è che evidentemente si deve puntare sempre più sull'informatizzazione, sullo sviluppo tecnologico perché è battendo questa strada che ovviamente porteremo ancora a raccogliere maggiori benefici e per il bilancio della società e quindi ovviamente per il socio che è il comune di Monza. Un'ultima notazione, io non capisco come vengano fuori i nomi delle società di cui discutiamo in Consiglio Comunale in questa fase di riorganizzazione. Se si è deciso che l'oggetto sociale è la sosta, perché lo chiamiamo Monza Mobilità? A meno che non ci sia in ballo una discussione invece sull'affidamento di ulteriori oggetti sociali come per esempio quello che ne so della mobilità dolce, della mobilità sostenibile che potrebbe essere un'altra ipotesi di lavoro oppure di altre questioni che riguardano invece la mobilità. Ma questo lo dico per una questione di chiarezza e sempre per una questione di trasparenza. Dico questo, in generale credo di aver capito che l'operazione di fissare al minimo di legge il capitale sociale della società per una SRL a 10.000 euro lasciando nel fondo la differenza con l'attuale capitale sociale di 317.000 euro sia un'operazione che in qualche modo in un'ottica di gestione del patto di stabilità nel senso che probabilmente se noi ce lo portiamo adesso in bilancio del Comune poi li dovremmo spendere adesso in fretta e furia mentre invece lasciandoli lì probabilmente rientrano in un discorso di bilancio consolidato e armonizzato e quant'altro e quindi non ci incidono sul patto mentre invece riportandoli dentro subito forse avremmo dei problemi di questo genere. E analogamente non ho capito se l'idea di lasciare come oggetto sociale solo la questione della sosta ma anche in questo caso sia coerente con questi aspetti di vincoli di bilancio cui siamo in qualche modo sottoposti adesso. Non so se dal punto di vista amministrativo potrebbe essere corretta questa riflessione avere una società che ha sì degli utili ma avendo ulteriori oggetti sociali su cui reinvestire nel nostro esempio per esempio le piste ciclabili e quindi spostando il comparto delle piste ciclabili sul discorso della società Monza Mobilità e quindi gli utili che sta producendo la società venissero reinvestiti su quel settore se avrebbe una società che chiude più o meno in pareggio il bilancio con la possibilità di avere degli investimenti in quel settore che detto per inciso è stato per esempio anche oggetto della fase preliminare del Consiglio Comunale di oggi a testimonianza che la mobilità è veramente un tema molto sentito dall'Aula e quindi anche dai cittadini. Concludendo un intervento che va nella direzione giusta che forse arriva un po' tardi con alcune questioni che si potrebbero approfondire però sostanzialmente che vede il nostro parere favorevole. Grazie. Sì, grazie presi la discussione e fondamentalmente è una delibera questa che vista con un occhio diciamo di chi per la prima volta si approccia ad una questione di questo tipo è una delibera abbastanza sensata, legittima c'è il risparmio, c'è la gestione di un servizio da parte dell'amministrazione una riorganizzazione del personale però a guardare è evidente che ci sono delle c'è qualcosa che stride è evidente perché questo era un servizio che chiaramente era nelle more di TPM trasporti pubblici monzesi perché? Perché attraverso la sosta attraverso il pagamento della sosta società pubblica poteva incassare dei fondi che servivano a diciamo garantire liquidità a una società che svolge un servizio pubblico che sappiamo, abbiamo visto è è un costo per la società il trasporto pubblico tant'è vero a Monza trasporto pubblico l'Adita vediamo adesso la domenica per prendere un autobus bisogna accendere un cero in chiesa proprio perché è un servizio che costa alla collettività per quello si affiancava invece la sosta che portava liquidità sicura per poter diciamo dare una una mano a un servizio invece pubblico che aveva delle grosse difficoltà adesso invece questa questa questo tipo di attività effettivamente non ha molto senso che sia svolta da un'attività da un'amministrazione no? però a leggere la a a vedere come viene nominata Monza Mobilità quasi viene a dire caspita Monza Mobilità che bello probabilmente effettivamente si sta si sta guardando al fatto che nel Comune c'è un serio problema di mobilità quindi bene bene che venga riorganizzato bene che che si mantenga questa società pubblica poi vai a vedere nello statuto la società si occupa di sosta quindi non si capisce proprio perché debba rimanere in essere questa società sinceramente forse rispetto al passato qualcosa è cambiato sicuramente è cambiato che abbiamo ancora una poltrona che comunque è ancora una poltrona se la chiamo d'oro forse qualcuno si scandalizza però insomma una poltrona abbastanza interessante che passa dalla destra passa alla sinistra ma sempre fondamentalmente di poltrona di carica politica si parla quindi è un po' deludente fondamentalmente sì perché va bene si risparmiano dei soldi va bene non è più un SPA è un SRL l'amministratore unico guadagna molto meno di prima però non ha molto senso perché poi visti i numeri diciamo che se le cose non vanno tanto bene alla fine si rischia che appunto si paga l'emolumento e probabilmente qualche 20.000 euro davvero non si riesce molto a capire il senso di questa chiamiamola riorganizzazione che poteva essere una riorganizzazione se effettivamente nello statuto si sarebbe parlato di mobilità e non di sosta e quindi una società che doveva avere il ruolo di sopperire a quella carenza che c'è in questo momento anche da parte degli enti di livello superiore stiamo aspettando che il trasporto pubblico a Monza grazie all'agenzia regionale prenda nuovo vigore nuova vita ma non ce n'è proprio no Assessore non mi rivolgo a lei perché chiaramente diciamo sì il suo ruolo è importante ma è un po' mi dispiace dirlo le mancano un po' gli strumenti in questo momento per poter risolvere questa situazione questo sarebbe potuto essere uno strumento si poteva appunto parlare di mobilità invece si parla soltanto di sosta io credo che fondamentalmente non ci sia nulla di granché in questa delibera sicuramente sì c'è come dicevamo prima il fattore di risparmio il fattore dell'organizzazione però è un po' è un po' deludente è un po' deludente perché Monza Mobilità è ferma in sosta grazie non siamo un partito non siamo una casta siamo cittadini punto e basta ognuno vale puro ognuno vale puro ognuno vale puro vale puro vale puro